Vincenzo Faragalli, lei è segretario di un'associazione particolarissima, Artualità, che si propone di stimolare la creatività giovanile. Che cosa consiste? La nostra associazione nasce dal nostro coinvolgimento con i nostri figli che operano nel mondo della musica, ma poi si è stesa all'arte in tutte le sue discipline, in tutte le sue forme e anche nelle interazioni, in particolare con lo sport. Come vai avete deciso di stimolare l'estro giovanile? L'abbiamo fatto perché abbiamo capito e abbiamo visto che i ragazzi spesso hanno difficoltà a far uscire fuori quel talento che hanno e che difficilmente, forse per le pressioni che hanno, forse per la paura, hanno difficoltà a mostrare in pubblico. Ecco, proprio a proposito di mostrare in pubblico, Mauro Mistichelli, lei è vicepresidente dell'associazione e avete dato vita proprio ad un talent per dare una vetrina a questi ragazzi. Sì, siamo andati qualche settimana fa con l'istituto di Mociano Bellante, con le scuole medie stiamo, andremo al Delfico e poi andremo anche alla Zippilli. Tante le discipline che sono in mostra, addirittura dal disegno manga al pattinaggio a performance con le bike. Ecco, diciamo una modalità molto eclettica per stimolare i ragazzi su diverse discipline. È un appuntamento che si rinnova ogni anno? È un appuntamento che si rinnova ogni anno, questa è la seconda edizione, vediamo che i ragazzi sono invogliati a partecipare in diverse discipline, dicevi, come anche il teatro, il canto, la danza. Il bello di questo è che i ragazzi si mettono in gioco loro ma mettono in gioco anche i genitori perché provano insieme a loro e in questo noi abbiamo già vinto perché dal momento in cui loro si allontanano un po' dalla tecnologia che spesso li travolge e da altro, stanno un momento particolare insieme ai genitori e si impegnano in questo. Grazie.